Ai medici di base, a tutti i volontari, gli ossi, gli infermieri, a chi per svolgere il proprio lavoro con spirito di missione ha dovuto sacrificare la propria vita. La voce di Lino Banfi per omaggiare e soprattutto ringraziare medici e operatori sanitari da due anni, tutti i giorni in prima linea contro il Covid. L'attore pugliese con Ornella Muti e Angelo Maggi, doppiatore di Tom Hanks, protagonista di un video dedica agli eroi del nostro tempo, un corto patrocinato dal Ministero della Salute e nato da un'idea di Fausto D'Agostino, giovane medico salentino di Cellino San Marco, insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella, per il suo impegno nel far conoscere anche attraverso la forza delle immagini il lavoro di chi ogni giorno lotta per salvare il limite. Con il video voglio dare più risalto e portare in luce ciò che fanno ogni giorno tutte le categorie sanitarie, per questo ho chiesto la collaborazione di artisti celebri e molto amati dagli italiani. Ai medici, ai rianimatori. Un invito raccolto senza alcuna esitazione. Oltre a dare la loro voce mi hanno sostenuto, hanno supportato questo progetto con entusiasmo e cosa ancora più importante, credono fortemente in quello che facciamo ogni giorno. A tutti gli eroi del nostro tempo, grazie.